Ancora una volta si è diffusa la fake news della presunta morte di Fedez. Queste voci non hanno alcuna base di verità e sono la classica bufala diffusa per attirare clicche. E' importante sottolineare che Fedez stesso, nonostante le difficoltà che ha affrontato di recente e ripetutamente confermato il suo stato di salute in modo inequivocabile. Queste affermazioni infondate sono solo la seconda ondata di post contenenti informazioni false su questo argomento. Dunque tutte le dichiarazioni che circolano riguardo alla presunta morte di Fedez il 4 ottobre sono completamente prive di fondamento. Alcuni individui purtroppo vanno oltre nel loro zelo, sostenendo che Chiara Ferragni e la sua famiglia scelgano deliberatamente di non rilasciare dichiarazioni ufficiali alla stampa e ai fan per motivi oscuri. Sostengono che la diffusione della notizia della morte del rapper metterebbe a ripentaglio la collaborazione con gli sponsor che hanno sempre seguito la famiglia.